Ferguson. Soriano la mette giù, Arnautovic Dominguez e ancora Ferguson. Entra in aria, palla per Dominguez, 1-2, poi conclusione al giro! Fantastico Ferguson, 3-0 Bologna. A 12 minuti dal novantesimo, il gol che permette probabilmente al Bologna di chiudere la partita. Dopo lo scambio, un fantastico destro a giro a scavalcare consigli. Qua rivediamo Ferguson, lo scambio con Dominguez e poi la conclusione con la palla che gira, la morbida si insacca e fuori dai pali, un passo avanti e un passo decisivo consigli. Prende un bellissimo gol il terzo del campionato da parte di Ferguson. Prende un gol, Prende un gol! Fantastico gol dello scozzese. L'anno scorso aveva chiuso in doppia cifra con la Berdine, 11 gol in 36 presenze. Per ora viene! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.